Le prime meraviglie del 2000 erano trascorse altre due ore, quando il dottor Tobi per primo ha perso finalmente gli occhi, dopo cent'anni che li aveva tenuti chiusi. Dopo un'immersione durata un quarto d'ora in una vasca piena d'acqua, Tiepida aveva già cominciato a dare qualche altro segno di vita e perdere la tinta giallastra, non di meno era stata necessaria una nuova iniezione del filtro misterioso, perché il cuore riprendesse finalmente le sue funzioni. Dopo le prime battute la rigidità dei muscoli era rapidamente scomparsa ed il colorito rosso era tornato sul suo volto in seguito alla ripresa della circolazione del sangue. Appena aperti gli occhi il suo sguardo si fissò sul signor Holker che gli stava presso occupato a soffregare il petto di Brandock. Buongiorno gli disse il pronipote accostandoglisi rapidamente. Tobi era rimasto muto, non di meno i suoi occhi parlavano per lui. Vi era nel suo sguardo dello stupore, dell'ansietà, forse anche della paura. Mi udite? chiese Holker. Il dottore fece col capo un segno affermativo, poi agitò le labbra più riprese senza che potesse emettere alcun suono. Certo la lingua non aveva ancora riacquistata la sua elasticità dopo essere arrestata per tanti anni immobilizzata. Come vi sentite? Male forse? Tobi fece un gesto negativo, poi alzò le mani facendo dei segni assolutamente incomprensibili per signor Holker. Ad un tratto le abbassò puntandole verso il signor Brandock che stava coricato in un letto vicino. Mi chiedete se il vostro compagno è vivo o morto, è vero? Il dottore accennò di sì. Non temete signor zio se non vi rincresce e che vi chiami con questo titolo di parentela, poiché appartengo alla vostra famiglia come un discendente di vostra sorella. Non temete, anche il vostro compagno sta per tornare alla vita e fra poco riaprirà gli occhi. Provate molta difficoltà a muovere la lingua? Vediamo zio, sono dottore anch'io al pari di voi. Gli aprì la bocca e tirò parecchie volte quell'organo che pareva si fosse atrofizzato, ripiegandolo poi in tutti i sensi per fargli riacquistare la perduta agilità. Agisce ora? Un suono da prima confuso uscì dalle labbra del dottor Tobi, poi un grido. La vita, la vita! Mercè il vostro filtro, zio. Cent'anni? Sì, dopo cent'anni di sonno, rispose Holker. Non credevate certo di poter tornare vivo? Sì, sì, borbottò il dottore. In quell'istante una voce fioca chiese. Tobi, Tobi? Il signor Brandock aveva aperto gli occhi e guardava il suo vecchio amico con uno stupore facile a comprendersi. Tobi ripeté per la terza volta tentando di rizzarsi sul guanciale. Non vi muovete, signor Brandock, disse Holker. Sono lieto di darvi il buongiorno e di udirvi parlare. Rimanete coriccati, vi è necessario un buon sonno, del vero sonno. S'avvicinò ad un tavolino su cui stavano parecchie fiale, ne prese una e versò il contenuto in due tazze d'argento. Bevete questo cordiale, disse, porgendo ad entrambi le tazze. Vi darà forza? Ah! Mi scordavo di dirvi che i vostri milioni sono al sicuro, qui in casa mia. Ricordatevi, fate una buona dormita e questa sera pranzeremo insieme, ne son certo. Il dottor Tobi aveva mormorato. Grazie, mio lontano parente. Poi aveva quasi subito chiusi nuovamente gli occhi. Il signor Brando dormiva di già, russando sonoramente. Il signor Holker rimase nella stanza parecchi minuti, curvandosi ora sull'uno, ora sull'altro dei risuscitati e ripetendo con visibile soddisfazione. Ecco il vero sonno che riparerà le loro forze. Meraviglioso filtro. Ecco un segreto che, se divulgato, renderà il mio antenato l'uomo più famoso del mondo. Lasciamoli riposare. Credo che ormai siano salvi. Otto ore dopo il dottor Tobi veniva svegliato da un sibilo leggero che pareva venisse dal di sotto del guanciale. Assai sorpreso si era alzato a vedere, gettando intorno a sé uno sguardo meravigliato. Nella stanza non vi era nessuno e Brando continuava a russare nell'altro letto. Chi mi ha fischiato agli orecchi, si chiese, che io abbia sognato? Stava per chiamare Brando quando udì una voce che pareva umana, sussurrargli agli orecchi. Gravi avvenimenti sono avvenuti ieri nella città di Cadice. Gli anarchici della città sottomarina di Bressac, impadronitisi della nave Hollendorf, sono sbarcati nella notte facendo saltare parecchie case con bombe. La popolazione è fuggita e gli anarchici hanno saccheggiato la città. Si chiamano sotto le armi i volontari di Malaga e di Alicante che si trasporteranno sul luogo dell'invasione con flotte aeree. Si dice che Bressac sia stata distrutta e che molte famiglie anarchiche siano rimaste annegate. Il dottore aveva ascoltato con uno stupore facile ad indovinarsi quella voce che annunziava uno spaventevole disastro. Poi aveva sollevato rapidamente il guanciale poiché la voce si era fatta udire precisamente dietro la sponda del letto e scorse una specie di tubo sul cui urlo era scritto abbonamento al Word. Una meraviglia del 2000 esclamò. I giornali comunicano direttamente le notizie a case degli abbonati che abbiano soppressa la carta e le macchine per stamparla. Ai nostri tempi queste comodità non si conoscevano ancora. Com'è progredito il mondo? Stava per chiamare l'amico che non si decideva ad aprire gli occhi quando udì uscire dal tubo un altro fischio. Poi la medesima voce che diceva guardate la scena. Nel medesimo istante il dottore vide illuminarsi un gran quadro che occupava la parete di fronte al letto e svolgersi una scena orribile ed una verità straordinaria. Degli uomini erano comparsi in mezzo delle case e si vedevano correre all'impazzata lanciando delle bombe che scoppiavano con lampi vivissimi. I muri si sfasciavano, i tetti crollavano, uomini, donne, fanciulli precipitavano nelle vie mentre larghe lingue di fuoco si alzavano sopra quegli ammassi di macerie tingendo tutto il quadro di rosso. Gli anarchici continuavano intanto la loro opera di distruzione e le scene si succedevano le scene con vertiginosa rapidità e senza la minima interruzione. Era una specie di cinematografo d'una perfezione straordinaria, veramente stupefacente, che riproduceva con meravigliosa esattezza la terribile strage annunciata poco prima dal giornale. Per dieci buoni minuti quel rovinio continuò, poi finì con una fuga disordinata di gente che si rovesciava verso una spiaggia mentre il cielo rifletteva la luce degli incendi. Straordinario, ripeteva il dottore, quando la parete tornò bianca. Che progresso ha fatto il giornalismo in questi cento anni? E chissà quante meraviglie dovremmo vedere ancora. Brando, che hai finito il tuo sonno? Udendo quella chiamata sonora il giovine aprì finalmente gli occhi, sbadigliando come un osso che si sveglia dopo il lungo sonno invernale. Come ti senti amico mio? Chiese Tobi. Benissimo. E il tuo spleen? Per ora non mi accorgo che mi tormenti. E dimmi Tobi, abbiamo sognato o è proprio vero che noi abbiamo dormito un secolo? La prova l'abbiamo nelle nostre cassefoti che hanno portate qui mentre ci riposavamo. Chi potrà credere che noi siamo risuscitati? Il mio parente di certo, poiché è venuto lui a toglierci dal sepolcreto. E dove ci troviamo noi? Ancora a Nantuket? Non lo saprei davvero. E tu come stai? Provo un turbamento che non so spiegarmi. E mi pare di essere molto debole. Sfido io, dopo un così lungo digiuno, disse Brado gridendo. Non ti senti appetito? Io mangerei volentieri una bistecca, per esempio. Adagio mio caro, non sappiamo ancora come funzioneranno i nostri organi interni. Se il cuore e i polmoni non danno segno di aver sofferto dopo una così lunga fermata, suppongo che anche gli intestini riprenderanno il loro lavoro. Eppure temevo che si atrofizzassero, disse Tobi. In quel momento la pote si aprì e il signor Holker comparve, seguito dal gigantesco negro che portava dei vestiti simili a quello che egli indossava e della biancheria candidissima. Come state, zio, mi permettete di chiamarvi così, d'ora innanzi? Certo, mio caro, tardo nipote, rispose il dottore. Mi trovo abbastanza bene. Anche voi, signor Brandock? Ho solamente un po' di fame. Buon segno, vestitevi e poi andremo a pranzare. Le vesti saranno un po' diverse da quelli che si portavano cento anni fa, però sono più comode e dal lato igienico nulla lasciano a desiderare, essendo disinfettate perfettamente. E anche la stoffa mi sembra diversa. Stoffa vegetale. Già da sessant'anni abbiamo rinunciato a quella animale, troppo costosa e poco pulita in paragone a questa. Ah, troverete il mondo ben cambiato. Per ora non vi dico altro, per non scemare la vostra curiosità. Vi aspetto nella sala da pranzo. Il dottor Tobi e Brandock si cambiarono, fecero un po' di toilette, poi lasciarono la stanza, inoltrandosi in un corridoio, le cui pareti lucidissime avevano degli strani splendori, come se sotto la vernice che le copriva vi fosse qualche strato di materia fosforescente, ed entrarono in un salotto abbastanza ampio, illuminato da due finestre larghe e alte fino al soffitto, che permettevano all'aria di entrare liberamente. Era mobiliato con semplicità, non esente di una certa eleganza. Le sedie, la credenziere, gli scaffali situati negli angoli e perfino la tavola che occupava il centro erano formati da un metallo bianco e lucentissimo, che assomigliava all'alluminio. Il signor Holker era già seduto a tavola, la quale era coperta da una tovaglia colorata che non sembrava di tela. Avanti, miei cari amici, disse andando al loro incontro. Il pranzo è pronto. E dove lo mangeremo? chiese Brando, che non aveva scorto sulla tavola né tondi né bicchieri né posate né salviette. Ah, mi scordavo che un secolo fa gli albergatori erano pure indietro, disse Holker ridendo. Hanno progredito anche essi. Guardate! S'accostò ad una parete ed abbassò una lastra di metallo lunga un paio di metri e larga una trentina di centimetri, unendola alla tavola in modo da formare un piccolo ponte. L'altra estremità si appoggiava ad una piccola menso, la sopra la quale stava scritto, abbonamento all'hotel Bardili. E ora, chiese Brando, che guardava con crescente stupore, premo questo bottone ed il pranzo lascia le cucine dell'albergo per venire sulla mia tavola. Dove si trova questo hotel in questa casa? Anzi, è piuttosto lontano, sulle rive opposte dell'Hudson. Siamo dunque a New York, esclamarono a una voce Toby e Brando. Dove credevate di essere? Ancora a Nantuchet? Quando ci avete trasportati? domandò Brando al colmo della sorpresa. Ieri sera alle otto ho lasciato l'isola e a mezzanotte eravate qui. In quattro sole ore, mentre cent'anni fa se ne impiegavano sedici e con una scialuppa a vapore, esclamò il dottore. Abbiamo camminato con le invenzioni, mio caro zio, disse Holker. Ah, ecco il pranzo. Un sibilo acuto era sfuggito da una piccola fessura della mensola, poi una porticina si era aperta automaticamente all'estremità della lastra di metallo che si univa alla tavola e una piccola macchina seguita da sei vagoncini di alluminio di forma cilindrica s'avanzò, correndo su due incavi che servivano come da rotaie. Il pranzo che manda all'albergo chiesero Toby e Brando. Sì signori, è con tutto il necessario, come vedete è una cosa molto comoda, che mi dispensa ad avere una cuoca ed una cucina, rispose Holker. Aprì il primo vagoncino che aveva una circonferenza di 40 centimetri e una lunghezza uguale, levò dei bicchieri, delle posate, delle salviette e quattro bottiglie che dovevano contenere del vino e della birra. Dagli altri quattro estrasse successivamente dei piccoli recipienti contenenti del brodo ancora caldissimo, poi dei piatti con pasticci e vivande svariate, delle uova, dei liquori eccetera. Tutto il necessario insomma per un pranzo abbondante. Quando ebbe terminato premette un bottone, la porticella si aprì ed il minuscolo treno scomparve, retrocedendo con la velocità di un lampo. Cosa ne dite signor Brando? chiese Holker. Che ai nostri tempi queste comodità mancavano assolutamente e tornerà il treno, certo, per riprendere le stoviglie. E come arriva qui? Per mezzo di un tubo e cammina mosso da una piccola pila elettrica, di una potenza tale però che le imprime una velocità di quasi 100 km all'ora. Queste vivande non sono state rinchiuse che da qualche minuto, infatti vedete che fumano, anzi scottano. E l'albergatore viene, come viene avvertito dal cliente di ciò che desidera, per mezzo del telefono. La mattina il mio sermo trasmette all'hotel il menù del pranzo e della cena. E le ore in cui desidero mangiare ed il treno giunge con precisione matematica. Non tutti potranno permettersi un lusso simile, osservò il dottor Tobi. Certo, rispose Holker, ma quelli che non possono abbonarsi all'hotel se la sbrigano anche più presto. A mangiare forse, non certo prepararsi il pranzo. Il lavoratore non fa più cucina in casa, non avendo tempo da perdere. 8 o 10 pillole ed ecco inghiottito un buon brodo, il succo di una mezza libra di bue, o di pollo, o di una libra di maiale, o un paio di uova, o di una tazza di caffè, eccetera. Cent'anni fa si perdeva troppo tempo, camminavate ed aggivate con la lentezza delle tartarughe. Oggi invece si gareggia con l'elettricità. Mangiate, signori miei, o i cibi si raffredderanno. Una tazza di buon brodo, signor Brando, prima di tutto. Poi sceglierete quello che più vi piace. Vi avverto che è un pranzo a base di vegetali. Pure queste pietanze non sono meno nutrienti e non vi parranno meno saporite. Poi parleremo finché vorrete. Grazie.